Arturo Brachetti verrà a Pinerolo, questo candidatista ha detto che vuole donare alla città di Pinerolo due spettacoli, in cambio noi metteremo a sua disposizione il teatro in modo che lui possa provare per andare a fare poi questa tournée che sarà successiva. Arturo Brachetti grande illusionista, grande personaggio, artista conosciuto in tutto il mondo, finalmente un sogno che si realizza per la città di Pinerolo e mi auguro che la città risponda in modo forte e possa godere di questo stupendo artista tournese. Si presume che lui verrà il 5 e il 6 di marzo a Pinerolo per due spettacoli.